ok da questo momento si sta registrando quindi tutti gli interventi no no ancora purtroppo dovevo fare sì mentre scusa quindi giusto per rendere a breve abbiamo questi scenari critici ma abbiamo anche questa missione nuove filiere produttive che si affacciano all'uso delle risorse organiche all'utilizzo degli scatti sono una delle fonti principali all'uso dell'asset forestale e così via questo già mi fa capire come il tema che affronteremo oggi è un tema che mette il fuoco su una risorsa che ha la natura di tipo competitivo competitivo quindi sarà importante strategicamente definire quanta quanta di questa quanta di questa biomassa deve essere restituita al suolo quanta di questa biomassa può essere utilizzata per produrarsi bene quindi questo è un aspetto sicuramente da tenere in considerazione ovviamente non aspetta a noi però è da tenere sempre in considerazione quando si prospettano scenari di sviluppo di un certo tipo il suolo in questo scenario il suolo è straordinariamente importante è una risorsa che contrariamente a quello che si immaginava una volta è una risorsa viva non è un supporto diciamo si pensava che poteva essere utile solo per supportare le culture e quindi si poteva svolgare con la chimica il suolo è fondamentale ci sta capendo sempre di più ovviamente questa comprensione questa sensibilità è crescente e lo stanno capendo perfino le industrie le industrie che fanno bioeconomia ormai capiscono la chiamano bioeconomia circolare che si parte dal suolo e bisogna tornare a questo perché è un asset ordinario è un asset fondamentale quindi recuperare la fertilità noi ci sappiamo questo faccio vedere accenso no si va qui si, ok no, però non si vuole rispetto alle storie non è un problema e poi lascio la parola quindi il primo punto è la fertilità chiaramente la fertilità dei suoli non c'è dubbio ci sono statistiche che rimostrano che la fertilità dei suoli diminuisce con le pratiche di una sostenibile in un periodo di 40-50 anni i pratiche di sostenibile si azzera la sostanza organica con una dinamica tra l'altro molto rapida e si rimostra anche che le pratiche sostenibili che sono in grado di recuperare la fertilità ma purtroppo bisogna intergiungere con una dinamica un po' diversa è più lento rispetto all'allandamento della pellica quindi ci chiediamo più tempo ahimè ma questa non sia che non bisogna fare recuperare fertilità nel suolo nel sud d'Italia stiamo parlando di suoli che oramai stanno allo 0 con uno 3% cioè siamo giocchiamo intorno all'1% che è la soglia della fertilizzazione quindi questo è lo scena fare le cose quindi che discuterebbe di straordinaria importanza per preservare un asse per cercare di recuperarlo ma anche poi per farlo funzionare di nuovo anche l'asservatoio di CO2 di carbonio quindi diciamo è fondamentale perché il suolo può portare diciamo la recupera di fertilità anche a bilanciare le emissioni di atmosfera quindi questo vorremmo dirvi darei subito la parola al primo relatore senza il periodo in Luggi che è Maurizio di Stima di Terec a Terecchi ci illustrerà il monitoraggio perché ci fa per la fertilità del suolo in azienda microbiologica e lucana e limitare il progetto è un progetto che mi spiego per mettere un rischio per questo che va circa una ventina di minuti a te magari faccio una mano va bene allora ti dirige lo schermo e vai a te qua grazie Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie, io voglio ringraziare l'Astia, voglio ringraziare l'Astia che ha accettato di organizzare questa bellissima famiglia, l'interno è a tutti voi, Agrobio e il consorzio lucano dei costituzioni biologici. Grazie a tutti voi che siete venuti, quelli che sono collegati da casa. Vediamo diventare a frutto una sorta di confronto tra diverse esperienze di diversa natura, ma che hanno un unico punto di riferimento che è la cronologia e che è la gestione sostenibile dell'attività agricola nel territorio rurale. Io sono Maurizio Agostino, sono il coordinatore di Rete Humus. Rete Humus è una rete che in Italia aggrega diverse cooperative biologiche, diverse realtà produttive biologiche, sia storiche, pioniere, ma anche di ultima generazione. In tutta Italia, vedete questa è la cartina, con le varie localizzazioni, vi trovate l'elenco delle organizzazioni che sono soci di Rete Humus, che hanno un partenariato attivo permanente come uno di questi soci costitutori è il confronto biologico, che è stato qui l'amico Michele Monetta, che è stato tra i quali nel 2016 hanno dato vita a questa Rete Humus, che è un'organizzazione di terzo livello, cioè aggrega cooperative di produttori, associazioni, consorsi e organizzazioni varie. Oltre alle cooperative biologiche, l'esempio o consorsi come il confronto biolucano, in Rete Humus troviamo delle organizzazioni, diciamo, della società civile impegnate nella tutela dell'ambiente, del territorio, delle tradizioni, a promuovere la sostenibilità come valore. Vi voglio segnalare giusto qualche elemento interessante, giusto perché si capisca un po' quello che è il nostro modo di essere, la nostra cultura, la nostra missione. ISDA Italia, Associazione Medici per l'Ambiente, è un network che aggrega 800 medici in tutta Italia che sono impegnati a difendere l'ambiente, considerando l'ambiente come il presupposto della salute umana. Non c'è una salute umana senza una solubilità ambientale. Non possiamo essere in salute se viviamo in un ambiente inquinato, fissi e stato. Ecco, questi medici si sono aggregati ed è un'aggregazione a livello internazionale. Questa è la questione italiana di globalizzazione mondiale di medici in giugna. Ecco, io ho voluto fare questo esempio di dire che Reteus mette insieme realtà agricole, realtà agricole e realtà, è possibile togliere questa visualizzazione così in sala vedono bene? Ecco, questa è, qual è la missione di Reteus? Reteus parte dalla fertilità del suolo, ma non si ferma la fertilità del suolo, cioè ritiene che la pratica dell'agricoltura biologica comporta delle scelte precise, significative che non possono essere svilite, che non possono essere, diciamo, ridotte a una semplice variante di prodotto. Ecco, ci siamo chiamati Reteus perché partiamo dall'Uns, dalla perla, come fattore rigenerativo di un agroecosistema che deve rassomigliare il più possibile ad un ecosistema naturale, l'ecosistema che ci sarebbe al posto dei nostri tanti produttori. Oggi Reteus rappresenta 541 aziende agricole, sono i soci dei soci di Reteus. Quindi, il Corpo Bio Lucano, i 30 e qualcosa in più di produttori del Corpo Bio Lucano, si sommano ai 200 soci dell'Apografia Novo Cilento, ai 80 soci di Garte Natura, non lontano da stile e la Fibarite, ai 30 soci di ABC, l'associazione di cui faccio parte, di cui fa parte anche la mia azienda per solare. 11.000 ettri di superficie agricola, 10 centri aggregati di lavorazione dei prodotti, sia freschi che trasformati. Non è una realtà, chiaramente, maggioritaria, nell'ambito del panorama agricolo-biologico italiano, però è una realtà significativa. E noi vogliamo gestire in termini comunitari questi 11.000 ettri. L'obiettivo nostro è quello di fare in modo che questi 11.000 ettri possano avere gli stessi valori di riferimento, gli stessi principi e le stesse metodologie di lavoro, anche nella diversità degli ambienti e delle varie situazioni che ci troviamo a vivere per ricordare per ricordare. I principi di riferimento sono quelli del biologico, dell'economia solidale e del fast trade a livello internazionale, ma noi abbiamo lavorato a puntualizzare nella nostra cassa dei principi e dei valori delle specificità nostre, e cioè il movimento biologico italiano, le cooperative che hanno il Mondeus, come considerano la fertilità, la biodiversità agricola, la tutela della risorsa idrica, la qualità del cibo, quando parliamo di bonità del cibo intendiamo dire la qualità nutrizionale, la qualità nutraceutica, se possibile, e la qualità organolettica. Siamo italiani e vogliamo che un cibo, ingerire un cibo comporti anche, come dire, il piacere di poter riscoprire attraverso un gusto le tradizioni, la significatività, e il piacere di condividere questo gusto. Ma siamo attenti parimenti anche ai temi della dignità delle persone, siamo attenti anche ai temi della tutela delle condizioni di vita, di lavoro, dei lavoratori, ma anche degli imprenditori, degli agricoltori. E cioè non esiste sostenibilità dell'agricoltura senza una vita dignitosa da parte di chi lavora la terra, sia esso operario dipendente, sia esso contadino imprenditore. Viviamo un settore economico particolare. Perché è un caso di arie? L'imprenditore? Cosa? C'è qualcuno che vuole parlare con noi? Se chi è in ascolto da casa può spegnere il microfono? Stiamo dicendo che l'agricoltura, più di altri settori economici, vede impegnato l'imprenditore direttamente nell'esecuzione materiale di molte operazioni culturali. Per cui noi non distinguiamo tra le condizioni di vita dignitose di chi è lavoratore dipendente e da chi è imprenditore, ma anche lavoratore nella sua azienda. Ecco, questo è importante. Il nostro progetto di monitoraggio partecipato della festività del suolo è partito da questa regione, dalla Basilicata, dall'Altia, dal progetto Carbon Farm che ha visto insieme lavorare lavorare insieme l'Altia, l'Università di Potenza, Massimo Settimentico, qualcuno ricordamelo, l'Università di Salerno, il CREA appunto che coinvolge Massimo Zaccardelli, se non mi sbaglio anche l'Università di Torino, non mi sbaglio, l'Università di Torino e qual è l'altra Università? Napoli, Federico II e Federico II di Napoli. C'è l'Altia e altri soggetti che adesso non ho sconto molto bene, ma questi soggetti hanno promosso un bellissimo progetto che ha tematizzato il compostaggio, ha tematizzato il valore della festività organica del suolo, dell'economia circolare, che si chiamava prima il direttore, e in questo progetto, chi lo ha vissuto in prima persona, è stato messo a punto un manuale di autovalutazione della festività del suolo. Ebbene, ReteUVUS è arrivata nel momento in cui questo manuale è stato presentato, ReteUVUS lo ha accolto e lo ha trasferito in tutte le regioni in cui ha effettuato il monitoraggio delle aziende agroecologiche di ReteUVUS. Quindi noi abbiamo preso il Carbon Farm, siamo andati in oltre 100 aziende agricole e biologiche di Dizia Italia, e regione per regione, azienda per azienda, abbiamo dato il kit di autovalutazione del suolo agli agricoltori, che lo hanno applicato con una forma di tutoraggio che ha assicurato la rete, ha applicato il piccolo laboratorio che era contenuto da uno zainetto che voi ci avete messo a disposizione. E oggi, in maniera, come dire, doverosa, siamo qui a dare di conto di quel lavoro che abbiamo fatto. Chiaramente questo lavoro ha coinvolto anche nell'azienda della luce della Pacificata. E andiamo a vedere i risultati di questo lavoro. Li vedremo con un occhio di riguardo per i temi della fertilità, ma il monitoraggio non si è fermato alla fertilità, perché, come vedete, da questa griglia, vedete quelle che sono state le osservazioni che abbiamo fatto. Le abbiamo fatte dalle 541 aziende, ne abbiamo selezionate circa un centenario, e adesso vedrete anche come si sono distribuite, perché abbiamo voluto testare la prova della vanga, cioè il test di Carbon Pharma, insieme a una serie di altri rilevamenti e cercare di capire come arrivare a sintesi. Questo è un lavoro che è stato molto laborioso, perché la realtà è sempre oltre la nostra fantasia e quando ti provi ad applicare quello che hai pensato con la tua fantasia, trovi che la realtà è ancora più avanti, quindi devi adattare strumenti, metodologie, sistemi, e quindi è un lavoro che ci ha impegnato molto. Questi sono i criteri che noi, i rilevamenti che abbiamo fatto, i rilevamenti di dati aziendali, disumibili da un semplice colloquio o da una documentazione, prendete il fascicolo aziendale o una notifica di produzione biologica, le valutazioni dirette in campo e le valutazioni di laboratori, i test delle prove analitiche dei terreni che abbiamo affettuato in laboratorio. Chiaramente, come vedete, questa attività ha comportato molte attività in campo, attività che ha messo insieme esponenti del mondo della ricerca, agricoltori anche giovani desiderosi di imparare tecniche avanzate di agricoltura organica. In questa foto c'è il professore Celano, uno dei protagonisti del progetto Carbon Pharma, da qualche parte nascosto c'è anche Massimo da Carbon Pharma, ci sono io, ci sono gli amici della cooperativa Nuova Cilenta, qui siamo accelati all'azienda La Petrosa in Campania. L'estrazione dei suoli l'abbiamo fatta anche cooperativo per cooperativa e le cooperative hanno trovato il gusto di raccogliere i campioni aziende per aziende di portarle in cooperative e di fare dei momenti di discussione sulle prime impressioni che sono state tirate su dal rilevamento proprio grazie al metodo Carbon Pharma. Quindi quel metodo adesso lo vediamo ha fatto una serie di osservazioni dava e fondato su una serie di osservazioni visive tattili e noi ci abbiamo aggiunto anche la parte dell'olfatto dell'anticipo e queste cose vengono fuori poi delle discussioni perché non trovi l'ombrigo perché ne trovo perché trovo la sua dilavorazione perché non la trovo perché il terreno non si disgrega ecco sono cose veramente molto importanti che l'allungimiranza di chi ha messo a punto questo sistema ha preordine e andare in giro per campi significa incontrare realtà diverse questa è una foto del presidente della cooperativa La Terra e il Ceno in un campo di una popolazione evolutiva di grani composta da 700 varietà di grano e la collezione di Salvatore Ceccarelli che si è portata dietro dalla filia prima dello scoppio della guerra e che ha dato in dotazione a questa cooperativa e adesso c'è già una pasta fatta di 700 grani duri una popolazione evolutiva che in questo territorio si sviluppa e va avanti ma ci sono anche esperienze di momenti di interazione è un compostaggio di una salsa di un plantorio sociale il plantorio sociale che restituisce ai soci non solo l'olio ma restituisce il compost derivato dalle salze che hanno portato le olive che hanno portato l'anno precedente ma abbiamo detto che noi non ci fermiamo alla qualità del suolo all'agroecologia alla biodiversità noi vogliamo ottenere grazie alla fertilità del suolo alla tutela della biodiversità vogliamo ottenere un prodotto buono da mangiare questa è un'esperienza in questo progetto che stiamo forse andando avanti di metter punto di un protocollo di valutazione sensoriale delle clementine un prodotto caro della mia terra la Calabria voi state cercando di superarci ma non ci riuscirete mai voi Lucani nel senso che è un prodotto di eccellenza soprattutto prodotto in grande quantità ebbene queste clementine derivano dai campi che abbiamo monitorato in Calabria e abbiamo cercato di vedere se quel tasso di fertilità organica elevato dei suoli si traduce poi effettivamente in un gusto e una conformità organolettica del prodotto ottenuto e ci sono cose importanti ecco questo è il campione delle aziende che hanno partecipato a questo primo giro di messa a punto della metodologia di valutazione e di monitoraggio partecipato delle aziende delle prezioni vedete in Basilicata il confronto locale ha messo a disposizione 10 aziende è una quota rilevante considerando che la Basilicata dal punto di vista agricolo è una regione più piccola rispetto a altre regioni come l'Emilia Romagna il Veneto la stessa campagna la Ticina quindi il confronto via Lucana in questo primo avvio di programma territoriale ha avuto un impegno non indifferente ecco questa è un po' la composizione in nero vedete i gruppi che sono stati organizzati e tutorati dai soci di Rete Humus in Arancione ci sono delle realtà che non sono soci di Rete Humus ma che hanno partecipato lo stesso sono stati coinvolte cioè sono dei partner che hanno trovato interesse a lavorare pur non essendo soci di Rete Humus vedete in Puglia poco distante da qui c'è un gruppo di aziende a Massatra e le Galline Felici un consorzio interessante di aziende in Sicilia e il gruppo Abele che è un'azienda agricola 40 4 minuti vi vado a far vedere cosa abbiamo fatto per quanto riguarda la fertilità del suono chi ha seguito il progetto Carbon Pharma sa che noi abbiamo fatto queste osservazioni lo sviluppo radicale abbiamo guardato lo sviluppo delle radici delle piante spontanee come indicatore quindi uno sviluppo illimitato e armonioso di una radice dice che il suolo è in condizioni ottimali di vita perché le radici che vivono nel suolo prosperano bene la distribuzione degli aggregati del suolo la stabilità degli aggregati io prendo un piccolo aggregato di un centimetro lo metto in una piatta petri con acqua e lo lascio riposare 5 minuti vado ad osservare quell'aggregato dopo 5 minuti se è un suolo dove il legame tra la componente organica e le argille è ottimale come l'ho messo lo trovo se invece manca la sostanza organica o comunque non è nelle migliori condizioni pedoclimatiche io ho una disgregazione in mezzo ci stanno diverse gradazioni ecco l'importanza della sostanza organica se c'è una pioggia di 5 minuti cosa fa il terreno disgrega il terreno o c'è la capacità del terreno di stare diciamo nella sua composizione originale e questo è importante la presenza di lombrichi non mi dilungo il bioindicatore lombrico la suola di lavorazione che è un indicatore se sono eseguite correttamente le pratiche di lavorazione del suolo l'infiltrazione dell'acqua un terreno assorbe correttamente l'acqua anche una volta che è alla capacità di campo la presenza di sostanza organica ecco per ognuno di questi rilevamenti di cui tutti sono visivi e diretti metodo carbon far uno va al laboratorio e ci viene destituito anche se il carbon far propone anche un metodo colorimetrico che si può sviluppare in campo ecco prendendo tutti queste osservazioni assegnando ognuna di queste osservazioni dei punteggi si ha una somma questi singoli punteggi sono stati ponderati rispetto all'importanza che si dà all'ombrico piuttosto che allo sviluppo radicale la somma dei valori ponderati mi dà un valore questo valore diviso il valore massimo possibile moltiplicato per cento mi dà un indice di fertilità questo è l'indice di fertilità che abbiamo fatto quindi come vedete in un unico numero io ho la sintesi di tutte queste osservazioni che sono andato a fare è importante questo non è la stessa cosa che leggere un'analisi e andare a vedere se c'è magnesio se c'è calcio qual è la capacità di scambio cateorico di un perreno io qui mi sono andato oltre questa dimensione e ho cercato di prendere anche delle caratteristiche di funzionamento del suolo rispetto al suo rapporto con l'ambiente al suo rapporto con la produzione al suo rapporto con le tecniche di produzione questo è importante andiamo a vedere i risultati ecco i risultati sono questi risultati sono questi come vedete ogni gruppo è una colorazione vedete quei rettangoli ci dicono il valore massimo il valore minimo è la maggior parte dei valori dove si sono distribuiti la maggior parte dei valori vedete che ho un indice di fertilità medio di circa il 72% cioè in media il dato nazionale dice che nelle 102 aziende agricole biologiche monitorate direttore mi deve dare 5 minuti 5 minuti perché sono il primo come vedete come vedete il valore medio supera il 70% significa che già su una prima lavoro noi abbiamo 7 7 più ecco abbiamo abbiamo preso al voto del nostro primo tema 7 più come media nazionale ma andiamo a vedere realtà per realtà a parte che non è una gara non è una classifica è un modo per dire noi facciamo agricoltura biologica e diamo questi risultati e ci mettiamo quindi il significato è questo cioè la trasparenza è il presupposto della garanzia mi sono spiegato andiamo a vedere e chiaramente a questo punto andiamo direttamente sulle aziende di cui alcune sono qui in questa sala cioè dell'azienda del comproprio lucano e cioè delle quindi vedete quello è il dato ci sono delle realtà eccellenti che arrivano che superano il 9 chi è che supera il 9? una realtà del Bresciano si chiamano la buona terra forse sapevano di avere una buona terra arrivano ad avere una media superiore al 90% e un gruppo di aziende agricole e biodinamiche da 20 anni che in un clima continentale hanno raggiunto livelli eccellenti di fertilità non solo di sostanza organica dei suori ma eccellenti di fertilità poi guardate là il comproprio lucano eccolo là sarebbe il quarto che vedete da sinistra ecco il comproprio lucano eccolo qui il comproprio lucano diciamo che è una realtà che ha dato un picco minimo un picco massimo molto distanti tra loro ma noi sappiamo che nella statistica dobbiamo tagliare la testa e la coda e andare a vedere sul corpo centrale come corpo centrale le 10 aziende del comproprio lucano sono superiori alla media cioè la performance degli indici di fertilità riscontrata in basilicata è superiore alla media rispetto a me adesso potremmo aprire una discussione lunghissima perché dovremmo andare nel merito noi abbiamo fatto facciamo questo lavoro si va nel comproprio lucano si prendono le aziende si dicono si mettono trasparentemente a confronto i dati di un'azienda con i dati di un'altra azienda cercando anche di circostanziare i risultati vi voglio fare un esempio la realtà che apparentemente è a più basso indice di fertilità è questa che è la cooperativa la terra del cielo e lo sapete perché perché la cooperativa la terra del cielo sono cereali coltori della collina marchigiana e in tutte queste aziende una sola azienda ha la zotecchimia le altre aziende non hanno la zotecchimia e noi sappiamo che la cera di agricoltura senza la zotecchimia è penalizzata a meno che non interveniamo con delle pratiche agone ecologiche di alto livello e ci stiamo e il rete ums ci sta lavorando cioè cosa andiamo a fare adesso? andiamo nelle diverse realtà e diciamo quali sono i risultati migliori in tutte le aziende quali sono i risultati che possono essere migliorati qual è la strategia di sperimentazione di divulgazione e di formazione che dobbiamo fare di dimostrazione per poter alzare questi dati il risultato qual è? che lavoriamo a dei sistemi alternativi all'etame per poter compostare in azienda delle matrici organiche vegetali tra qualche anno torneremo e andremo a fare questo monitoraggio tutto questo è in una banca dati che è accessibile ai singoli produttori e anche ai consumatori e anche agli operatori di mercato questo è il progetto di rete ums questo progetto di rete ums si concretizza in un sistema di garanzia partecipata cioè la garanzia è che chi partecipa agli agricoltori mettono a disposizione i dati della propria azienda chi usufruisce di quei dati può andare e chiedere spiegazione questa è una garanzia partecipata perché è una garanzia che si fonda sulla trasparenza e sulla condivisione dei risultati da parte di tutti io adesso vi ho esposto i dati sulla fertilità del suono ma abbiamo altri dati anche sulla dimensione sociale dell'azienda quanta manodopera ha l'azienda quanti migranti ci sono che progetti sociali l'azienda intrattiene con il territorio di riferimento a quanti mercatini partecipa quali programmi di educazione ambientale questi dati si traducono in degli altri indicatori e tutti questi indicatori sono messi a disposizione nel sistema di garanzia di attociparla noi vorremmo nella primavera con il confronto di Lucano organizzare un grande momento di specialità dove adesso oggi è un momento tecnico rivolto ad addetti ai lavori ma questi risultati non li condivideremo in piazza con organizzazioni civili organizzazioni agricole e con i quadri tecnici della ricerca della fertilizzazione grazie ringraziamo Maurizio Agostino per una chiarissima posizione anche molto molto tagliata nonostante ci voleva più tempo per dire ma è sempre così l'esperienza insegna che è sempre così però penso che le cose che sono state dette sono molto utili e molto chiare adesso inviterò subito il secondo relatore che fu Giannetto di Rigenera Mexico a darci un'informazione su queste strategie per la tutela l'incremento dell'incremento degli due pelini inutili nel suono c'è una presentazione nella famosa questa resta resta Buon pomeriggio, innanzitutto volevo ringraziare gli organizzatori per aver avuto questa possibilità di intercambiare un po' con l'esperienza. Io sono produttore in Messico, ci conosciamo con Maurizio da un bel po' di anni, quindi scusate l'italiano sono 28 anni, tra mezzo spagnolo e mezzo italiano, comunque ci sappiamo. Innanzitutto volevo partire da un concetto importante che è la sicurezza alimentare, c'è un termine inglese, food justice, che è la giustizia alimentare. Siamo trovati in Messico di fronte a una situazione che abbiamo incominciato l'agroduttura biologica, biodinamica, fermacultura, che hanno sicuramente un concetto basico lo stesso, simile. In piccole situazioni producevamo biologico, un dato che mi pare importante, più dell'80% della produzione biologica in Messico si esporta, si esporta negli Stati Uniti, delle cose poi in Europa. E quindi abbiamo iniziato a riflettere perché finalmente il meglio dell'alimento deve andare fuori e noi finalmente cosa mangiamo? E in questi ultimi tre anni si è sviluppato una politica federale dello Stato di sviluppare questa giustizia alimentare, questa sicurezza alimentare, in termini molto pratici. Una cosa è l'agricoltura di sussistenza, coltivo mais, coltivo fragole, coltivo banane, coltivo ecchi scostivi, o faccio allevamento, però finalmente lasciamo qualcosa locale, che la gente abbia detto alimentare. Nel 2008, nello Stato dove il vivo, si chiama Michoacan, uno Stato della Corte del Pacifico, siamo arrivati a organizzare le messe scolastiche per i bambini di basso per basso per il corso, in una città magari un milione di messe scolari giornalmente fatte da piccoli prodotti. Il problema che è cresciuto con tutto questo è che finalmente non avevamo abbastanza mezzi tecnici per poter produrre questa quantità, perché non tutti vogliono fare il compost, non tutti vogliono fare la decomposta. E quando parliamo di superfici molto grandi, è più difficile. Secondo aspetto, sempre di più ci incontriamo, soprattutto in zona tropicale, con insetti o funghi molto difficili da controllare. Non ci abbiamo il dato per il tropico, non so qual è l'Italia, generalmente quando tu fai una combinazione, un'applicazione, tra l'8% e il 18% di insetti scappano, stanno dietro a foglia perché non è uniforme, quindi tutti i mesi una popolazione di insetti resistente potenzialmente alla settimana. E quindi abbiamo imparato a disegnare distinti mezzi tecnici che abbiamo bisogno come produttori per poter fare di fronte a questa necessità alimentare, stiamo parlando di 190 milioni di persone, o perlomeno dare l'opportunità alla gente di comere e mangiare in un modo più sano. E quindi io avevo cominciato soprattutto con delle risorse naturali che tutti abbiamo sotto il naso, che sono finalmente le piante silvestri, quelle che qui per ragione culturale si chiamano erbacce, non sono erbacce per niente, le chiamano così per ragione culturale. E quindi tutte queste piante, queste piante silvestri, silvatiche scusate, hanno un uso preciso in agroecologia. Per esempio qualsiasi pianta è una pianta bioindicatrice, ci informa qual è il tipo del suolo o come evoluziona questo tipo del suolo, punto uno. Punto secondo, la maggior parte di queste piante, mi riferisco a popolazione di piante, contengono elementi minerali distinti, quindi ho una fonte potenziale di elementi minerali che posso incorporare al compost, o il brucio e le ceneri, l'utilizzo come fertilizzato. Quindi avevo cominciato con questo, lo stesso per fabbricare insetticidi, per fabbricare prodotti per il controllo di insetti e abbiamo cominciato a lavorare anche con gli ormoni. E quindi abbiamo sviluppato all'epoca, vi parlo di circa 200-250 piante selvatiche, che la gente continua a utilizzare nelle sue pratiche agricole, perché comprare i mezzi tecnici, non so qua in Italia, ma comprare i mezzi tecnici biologici o certificati con biologico è carissimo, moltiplica per la superficie che devi utilizzare. Quindi abbiamo cercato fin dall'epoca una forma più sostenibile, ma sostenibile davvero, o ecosostenibile, per poter produrre qualità. Anche sotto la pressione, io ho sportato per anni, che il mercato sempre più ti chiede una frutta o una verdura bella anche in apparenza, non solamente in sabono, ma potenzialmente in sabono. Quindi sono associate queste cose e abbiamo cominciato a strutturare queste biopabriche, che è il tema della chiacchierata, dell'intercambio che abbiamo il giorno adesso. Quindi perché sempre devo essere dipendente di comprare dei prodotti quando io stesso li posso guardare? Ovviamente non li faccio come i microrganismi, non li posso fare nella cucina della casa, però come produttore, e sono produttore, me li ingegno per fabbricare dei microrganismi di qualità. Vi do un esempio, io ho cominciato con i microrganismi nel 1998-99, un'impresa sunnitense, nella regione dove vivo c'è un sacco di avvocato, terribile l'avvocato, sono monocultivi di avvocato, vi parlo di 320 mila ettari per l'esportazione, c'è un problema dell'avvocato che è un piccolo curcuglione, un insetto, un piccudo diciamo in spagnolo, che attacca l'avvocato. E quindi, senza fare i nomi, senza fatturare l'imballaggio, ho detto guarda stiamo provando un ongo entomopatogeno, sono dei funghi che attaccano, che mangiano la chitina dell'insetto, che si chiamava la overia baziana, perché non proviamo a sviluppare, possiamo coltivare questo fungo? E ci hanno lasciato dei ceppi, poi mi ha scoperto che i ceppi finalmente vivono anche nel suolo, ovviamente, o vivono sui corpi dell'insetto che ha attaccato, e quindi abbiamo cominciato a riprodurle, io ho cominciato a riprodurle in modo solido, utilizzando, riproducendo le spore in farina di riso, o farina di orzo, o farina di grano, ricordare che la spore è volata, e soprattutto, intanto, lavorare con un microbeismo, e adattarlo alle pratiche agricole di un produttore, per esempio, la maggior parte dei funghi entomopatogeni si applicano la mattina presto, o il pomeriggio, perché i raggi UV del sole distribuono questi funghi, quindi devi adattarlo, che è bene che funzioni, però devi adattarlo. La seconda cosa è che ha avuto un boom enorme, al 1998-99, esperienza personale, sicuramente all'epoca altri ricercatori hanno fatto questo, non lo sappiamo, non lo conosco. Arriviamo alla situazione attuale, dove, fra Messico e Nord America, includiamo Canada e Stati Uniti, ci sono 278 specie di microorganismi, microorganismi disponibili nel mercato, carissimi, però ci sono. Quindi, qualsiasi produttore che abbia un sistema convenzionale agrochimico o biologico, l'altro sistema, li può comprare l'utilità. Però, la maggior parte di questi microorganismi sono batteri che aiutano a fissare l'azoto, è il caso, per esempio, del risobio, per esempio, la sospirillum, eccetera, eccetera, alcuni sono entomopatogeni che mangiano la cucina dell'insetto, lo stesso per dei funghi, no? Ci sono dei funghi che combattono, combattono la palavra, che disputano un territorio con altri funghi, ci chiamano funghi antagonici, il più conosciuto è il tricoderma, ma, chiacchierando qui con i colleghi, c'è una di conto che anche qui in Italia tutti gli dobbiamo fare quel tricoderma, noi lavoriamo con otto specie di tricoderma, ricordate, se lavorate con il tricoderma, il tricoderma è molto territoriale, per esempio, il tricoderma che sicuramente c'è nel suolo qui a metà ponte, è differente al tricoderma che incontra nella sila, perché c'è una specificità, questo tricoderma, no? su 70 tricoderma, e poi abbiamo cominciato a lavorare questi ultimi anni con gli acinomiceti, gli acinobatteri, che sono un altro mondo interessante, tutti lo sappiamo, dicono i libri, no? Piove, senti questo odore a umbero, sono gli acinomiceti, attualmente, tassonomicamente, si classificano come acinobatteri, perché sono interessanti, conosciamo molto molto poco di questi microrganismi, però stiamo scoprendo che aiutano un sacco a stimolare la crescita di funghi o di batteri. E stiamo trovando con alcuni archea, anche a livello sperimentale, e i virus, i virus è un mondo a parte, non è il tema, magari, di oggi, però ci sono già disponibili nel mercato dei granulovirus, che sono dei virus specifici per attaccare alcuni lepidotteri nel maic, no? Che bene, finalmente, che esista tutto questo, tutto questo, il problema è, io, come produttore, come posso beneficiarmi, perché tutto questo esiste nel suolo, va bene, però come faccio per tirarlo fuori dal suolo? Quindi volevo farvi vedere un po' le tecniche, alcuni di questi microrganismi, e le tecniche che abbiamo imparato per estrarlo del suolo, riprodurlo e poterlo applicare, ovviamente, va secondo regole di controllo di qualità. Questo è molto importante. Per esempio, tutti questi microrganismi sono importanti, no? Nel sistema, nel sistema, scusate, viene in spagnolo, la prima cosa importante, se lavorate con questi microrganismi benefici, la caducità sono 3-4 mesi. Per esempio, se io compro un pacchetto di un tricoderma, che mi dice che questo tricoderma, la sua data di scadenza è il mese di aprile, non è interessante utilizzarlo, perché si dura un mese, se lo ha già mai. Quindi sapete che durano 3-4 mesi, non di più. Con eccezione di alcuni acinomicetti che possono durare due anni. Secondo, importante, è il numero di spoli. Il principio è che ciascun microrganismo potenzialmente riproduce un altro microrganismo. Tutto questo lo chiamiamo, scusatemi, unità formatore di colonia. Deve essere in minimo alla 10-8, per millilitro o programma. Se è inferiore a questo, avete il rischio che non funziona come dicevo. Un altro concetto importante è che meglio è se sono ceppi locali o ceppi adattati a una situazione climatica, bioclimatica, funzionano anche se non sono dello stesso ambiente climatico, però aiuta molto che siano della zona. Un'altra cosa, se voi lavorate con dei tricoderma o dei fumi che vengono in polvere, quindi dovete sempre verificare qual è l'agente vettore. Per esempio, come sono spore, vi ripeto, sono molto una polvere finalmente. Quindi generalmente si avvolgono in farina di riso o farina di grano, però molto meglio è quando sono avvolti in farina di diatomea. Nel senso lo conosciamo, la diatomea sono alghe, silice, fossili, sono come dei piccoli coltelli. Quindi quando lo applichi sull'animale, sull'insetto, gli fa una lesione ed è lungo dentro, entra dentro. Un'altra cosa importante, e spero con quello che vi dico, non offendere le sensibilità di nessuno, la certificazione organica sul mezzo tecnico non significa nada, non significa niente. C'è detto in un altro modo, la certificazione biologica non assicura la qualità del mezzo tecnico. Si dice che le materie prime che si utilizzano sono permesse e che non c'è contaminazione durante il processo o non ci sono organismi geneticamente modificati. Però la qualità è un'altra cosa. Attenzione a non confone. Per esempio, se io qui gli dico, guarda, ho estratto questo tricoderma e qui l'amico gli vende un altro tricoderma che è certificato, non è che il suo è meglio del mio, perché è certificato. Si differisce al processo, no alla qualità del processo. Ci sono tutti i tipi, con il principio del controllo biologico, volevo cominciare con questo microorganismo, che è il bacillus tunicensis. Il bacillus tunicensis si è demonizzato, anche per mal informazione, perché il bacillus tunicensis lo associamo, perlomeno alle persone che abbiamo una sensibilità ecologica o attività ecologica, alla Monsanto. Quindi il bacillus tunicensis è una porcheria perché la lavorazione alla Monsanto no. La Monsanto lavorò, alcuni ceppi del bacillus tunicensis specifico, per questo mais, il terminator, però il bacillus tunicensis è un mezzo tecnico extremamente interessante, molto, molto effettivo, però il bacillus tunicensis non è un insetticidio. Il bacillus tunicensis serve solamente per controllare le larve di lipidotto, per esempio, con 3Y, 43 insetti, no, perché funziona il bacillus tunicensis? Perché il bacillus tunicensis contiene questi cristalli proteici, queste proteine, che sono delta endotoxine, che entrano all'interno del corpo dell'insetto e creano un'occlusione intestinale. L'insetto, il bacillus tunicensis è rapidissimo per funzionare. Quando avete le condizioni ideali, in 20 minuti, in mezz'ora, gli insetti sono morti. Quindi, a differenza di altri funghi o microorganismi, micro-organismi, durano un certo tempo. E quindi qui si vede bene il schema, no? Lo schema, scusate. Quindi, la larva dell'insetto, il gruppo, si dice, il gruppo, mangia la foglia, c'è tranquilla, mangia la foglia, e mangia questi stali proteici e si riproduce. E poi, qui lo possiamo vedere dal punto di vista visuale. È facile da riconoscere il bacillus tunicensis. Guardate questa larva di brufo col colore giallo e l'effetto dopo una mezz'ora e 40 minuti. Vedete che la larva già ha delle macchie di colore scuro. Passando il tempo, la larva cambia di colore e arriva al punto, come qua, che si mobilita. E quindi, è interessante, il bacillus tunicensis lo può distraere del suolo o lo posso estrarre, scusate, estrarle, direttamente dall'insetto infettato. I bacillus sono tutto un mondo. Per esempio, questo è un altro tipo di bacillus che utilizziamo parecchio in Messico, che è il bacillus megaterium. Il bacillus megaterium non ha delle proprietà insetticide, ma serve per fissare il fosforo. Quindi, se voi lavorate col biologico, non è che c'erano molte opzioni per il fosforo e il potassio. Nel caso del fosforo, si, apri il tirocato fosforica, metti delle micorrice, più o meno, Ci sono i basi. Quindi, vediamo qui al microscopio, alla mano destra, al lato destro, scusate, come si mira questo, come si osserva questo bacillus megaterium. È molto interessante come fissatore del fosforo. Si chiama bacillus megaterium. Si chiamano bacillus perché in latino bacillus è sul palito, il palo. C'è in questa forma che sono batteri. Una cosa importante, se volete identificare batteri o funghi, i funghi con un microscopio ottico con un ingrandimento di 60, li potete osservare. I batteri no. Deve avere 100 e devi metterci un olio sopra. Poi vediamo gli aspetti pratici. Un altro, un altro bacillus megaterium, molto interessante, penso conosciuto, è il basilus subtilis. Il basilus subtilis è un battero che incontra tranquillamente nel suolo, è molto comune. Il basilus subtilis è interessante per noi produttori perché lo puoi applicare via fogliare o via a livello delle radici. Hanno incontrato ceppi di basilus subtilis in clima estremamente rigido, nell'artico per esempio, nell'eserto dell'Atacama, un eserto cileno, stiamo parlando di 60, 70 gradi centigradi. E l'hanno anche sperimentato nelle stazioni spaziali. La ISA, la stazione spaziale europea, ha fatto prove con alcuni ceppi. Resistono alte temperature, quindi è interessante. Ecco, volevo fermare un pochino sul basilus subtilis perché il basilus subtilis quando l'abbiamo utilizzato per la prima volta, quando si utilizzava 10-20 anni fa, lo associavamo a un batterio con uso fungicida per controllare i funghi. Nel biologico non abbiamo molti, ok, abbiamo il polisulfuro di calcio, abbiamo l'ozolfo, eventualmente il rame, però alcune piante non ce ne sono tante, l'aglio magari, però l'aglio è facilmente repellente. E quindi abbiamo ricorso, utilizzavamo questo basilus subtilis. Parentesi, è molto, molto facile da riprodurre. E qui osserviamo, col tempo, abbiamo scoperto che allo stesso tempo di avere un effetto fungicida battericida. Qui sono i principi attivi che contiene il bacio subtilis anche degli effetti interessanti di promuovere la crescita. Non solamente distrugge, è molto rapido il bacio subtilis, il fungo patogeno, però promuove la crescita della pianta e allo stesso tempo, interessante, produce il 2,3 butadeniol, che induce la resistenza delle piante fa una pressione sulla pianta attaccata dai funghi, stimola le fitolescine della pianta e la pianta per risposta produce questo il fungo, il battero produce questa quindi in termini pratici cosa vuol dire? Vuol dire che quando io applico il bacio sottilis, lo applico nel plat, come chiamano i plat, i piatti dove metti le piantine? come si dice le padelli isolati, platosi capiamo no? quando c'ho la piantina di un ortaggio in questo momento applico il basilio sottile direttamente il principio è che se la pianta sale sana ovvio no? cresce con meno difficoltà e sì 5 minuti ok quindi il basilio sottile è come si può applicare in tutti i sensi volevo questi sono nuovi batteri del basilio pumilis che lavoriamo questi sono i colori naturali del basilio pumilis guarda è divertente sembrano spaghetti no? pezzi di pasta però è estremamente interessante questo è un batterio relativamente nuovo che lavoriamo che si lavora il pseudomona fluorescens si chiama fluorescens per quando lo vedi la luce ultravioletta grigna la pseudomona fluorescens è se all'inizio volevo farvelo vedere questo è questo volevo farvelo vedere la pseudomona fluorescens all'inizio si utilizzava come stimolante della crescita e poi abbiamo visto che serve anche per fissare il fosforo per fissare i trofani e quindi abbiamo cominciato con un concetto che non è un concetto un concetto acquisito dalle scienze sociali è un concetto importante che è il consorzio il consorzio di microrganismi la maggior parte di questi microrganismi la maggior parte non tutti sono compatibili quindi li coltivo e li metto insieme quando faccio l'applicazione l'applicazione molti di questi batteri adesso si definiscono come FGPR batteri o microrganismi promotori della crescita delle piante questi sono gli azotobatter i risolvini non lo conosciamo lo so più in pienso lo conoscete sono questi batteri che fissano una cosa importante una cosa è fissare il mitogeno atmosferico un'altra è solubilizzarlo quindi per esempio ci sono voglio farvi vedere questo biocardino interessante con funghi il tempo è limitato questo per esempio lavoriamo con gli acinomiseti che non c'è il mondo adesso volevo farvi vedere questa più che altro per intendere il ciclo biologico di come funzionano gli insetti se io applico un fungo abbiamo visto i batteri se io applico uno di questi funghi questi funghi entomopatogeni che controllano gli insetti come funziona un fungo entomopatogeni qui è ben chiaro non sono i tempi del basilo sottile mezz'ora i tempi sono più larghi vari giorni però se ha le condizioni ideali sono estremamente effettivi qui si vede quindi l'ongo cade adere al corpo l'insetto ricordate che questi funghi mangiano la chitina dopo 6-12 ore entra all'interno dell'insetto dopo tra 3-8 giorni dopo l'insetto mora coperto da questo fungo come lo posso riconoscere? qui si vede bene una cince attaccata tra boveria bassiana questo velluto chiaramente l'ongo che utili sono esporre l'ongo questa è una foto anche bella da vedere ma se avete visto adesso c'è una serie innessi che si è dell'astro qua questo attacco non è tanta fantasia guardate che è interessante questa è la boveria bassiana la fotografia alla sinistra e la fotografia come si vede al microscopio ottico con colorazione questa come si vede microscopio elettronico però interessante è questo guardate questa è una larva vedete all'inizio come dopo vari giorni si copre fino a che la larva in termini di pratica questo vuol dire che quando io applico questi basilus applico questi funghi questi funghi restano nel mio corpo intonso voi pensate se stanno nel suolo perché non funziona perché tengo che estrarli riprodurli e applicarli volevo farvi vedere questa è la boveria questo è il metarrisium e il verticidum lecani quindi come facciamo come possiamo dire che questo è il tricoderma naturale il tricoderma viride ah sì volevo farvi vedere questo come posso dire che verrà questo ceppo di tal batterio di tal fungo funziona facciamo delle prove di questo da un lato seminiamo seminiamo o inoculiamo il batterio che è un fungo benetico dall'altro il fungo competitivo e qui si può vedere virtualmente per esempio il caso A B S funzionano bene il tricoderma è quello di colore azzurro azzurro verde nel caso E non è una ceppa tanto interessante perché non competità adesso volevo come è limitato mi puoi dare ma voglio farvi vedere il virus ma non abbiamo tempo la fotografia ecco volevo farvi vedere e quindi sappiamo che c'è tutto questo nel suolo vi dicevo quando fai una mostra del suolo generalmente il 95 il 98% di quello che tiri fuori o dei microagli che vengono non abbiamo la minima idea di quello che è o possiamo con una ragione metanomica identificare il genere o la specie però è molto difficile se tu isoli uno di questi microrganismi e provi a produrlo non puoi perché c'hanno dei fenomeni di mutualismo di simbiosi spesso di antagonismo o di parassitismo è molto difficile coltivare quindi lavoriamo sui funghi sui batteri che sappiamo se potranno bene alla quantità e all'applicazione adeguata per esempio questo è un esempio di biofabrica cos'è una biofabbrica la biofabbrica non è il biologico messo in una fabbrica la biofabbrica sono dei reattori verticali molto semplici per esempio questo è un reattore di 1300 litri nei reattori verticali con l'acqua e un mezzo di coltivo che generalmente è zucchero peraltro zucchero melasso zucchero integrale con farina di cereale con vitamina del gruppo B e l'acido glucoronico che serve per accelerare quindi mettiamo queste sostanze nell'acqua la lasciamo un mese però l'importante è tutto questo che la maggior parte dei microrganismi con i quali noi lavoriamo sono microrganismi aerobici che hanno bisogno dell'aria dell'ossigeno e questo ci permette anche di avere un certo controllo perché non non arrivino dei patogici chiaramente tutti i 15 giorni facciamo una una mostra un campionamento scusate un campionamento verifichiamo il pH generalmente questi microrganismi la gran maggior parte vivono in ambiente acido che dopo 15 giorni incontri un cambio molto forte dell'epiato che va verso l'alcalino qualcosa succede o qualcosa è corretto e poi prendiamo delle moestre facciamo dei campioni facciamo delle analisi e poi vediamo ci sono dei patogini volevo farvi vedere quindi è molto semplice una biofabbica la biofabbica ricordatevi è il modo che abbiamo come produttori di riprodurre noi stessi questi mezzi tecnici ovviamente ci camminiamo sopra per esempio secondo uno dei miei figli nel senso qualsiasi persona non è biologo mio figlio non è finito la scuola tecnica però qualsiasi persona può con un microscopio ottico identificare questi microrganismi e star sicuro però se delle persone gli interesse se le dà l'accompagnamento tecnico e guardate in questi ultimi due anni c'è una fioritura di biofabbiche incredibile in mezzo perché la gente ha bisogno di questi mezzi tecnici quindi l'Europa sicuramente è differente però è carissimo comprare l'urea comprare il nitrato non vi dico comprare i mezzi tecnici però è caro e quindi come fai devi bien produrre volevo farvi vedere adesso è un'immagine di una biofabbrica questo è grande generalmente la biofabbrica si costruisce si costruisce scusatemi si costruisce in funzione di quella che è la tua superficie però ricordatevi che sono sono biofabbiche modulari per esempio ciascun contenente ciascun bioreattore verticale ha una capacità in 1300 litri generalmente applichi variabili tra i 10 e i 15 litri per ettari per ettaro poi fare un'applicazione settimanale o due applicazioni settimanali quindi c'è un sacco di fertilizzanti quindi questa quantità enorme di fertilizzanti se vuoi la intercambi con un altro produttore o la vendi perché magari l'altro produttore non c'ha tempo di farlo non c'ha la patente o un sacco quindi tutto questo un punto importante mantiene un'economia circolare e davvero perché finalmente per me l'agroecologia è anche costruire strutture economiche che permettano alla gente di vivere e vivere in modo leggero questo è un esempio di produzione guardate la papaya è una frutta molto difficile da fare in biologico perché è delicata perché l'attacca con il virus generalmente una papaya non ha tanta frutta guardate la qualità è eccellente o frutti da un chilo e due una varietà che si chiama Maradona però interessante è chiaro tu puoi avere il miglior mezzo tecnico del mondo però se non lo applichi nel momento corretto o non le integri quindi noi facciamo parecchio sistema di permacusse questo è un more una varietà di mora che si chiama Brasos Tupi scusatemi Tupi un'altra fotografia volevo farvi vedere l'abbiamo finito l'abbiamo finito questo adesso questa è la metodologia quello che vuol dire è che veramente come produttori possiamo produrre possiamo dobbiamo produrre questi tipi di mezzi di tensio se no facciamo un biologico per un elite per quattro gatti o per la mia famiglia e gli amici estendiamo un po' il concetto che tutti abbiamo detto di mangiare sano e quindi è interessante il concetto l'ardiofabbrica un'ultima parentesi abbiamo imparato anche dei bioerbicidi io sai che la parola erbicida è terribile perché fa il biologico però prova di eserbare la mano con la zappa con il mezzo tecnico quindi ci sono dei microrganismi che sono patogeni per esempio l'alternaria alternata l'alternaria alternata la lavoriamo contiene dei metaboliti che sono erbicidi attenzione una cosa è il dissecante tiro l'acido acetico l'acido acetico brucia una pianta brucia la superficie l'alternaria alternata va dentro e attacca e secca la pianta e il problema è come faccio perché l'alternaria alternata non mi attacca e per questo che questi microline si mescolano con alcuni con alcuni stretomises con delle piante penetranti e attaccano solamente le piante selvatiche le quali quindi molto grazie grazie molto per il fantastico mondo dei microrganismi quanto è ricco e qualcosa si riesce a fare per la lotta biologica per i microrganismi e passerei subito la parola adesso a Massimo Giacardelli del CREA che ci parlerà di un'altra dimensione che è quella del compost del telecompost nuove strategie per la fertilità organica la biostimolazione e la difesa delle colture immagino di ricaricare di ricaricare non funziona per la tendenza di ricaricare di ricaricare di r Incorpor Grazie. 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 di questi cumuli. Poi grazie ad un progetto PON è stato realizzato un altro impianto presso un'azienda di Quarta Gamma a Battipaglia, qui abbiamo una serie di box, in realtà anche il principio è sempre quello, quello di insufflare aria attraverso la pavimentazione per assicurare l'ossigenazione dei cumuli. Un altro progetto, Polieco 2, qui si vede che invece che riguardava il compostaggio di residui di piante aromatiche, in questo caso è stato utilizzato un silomais, questo silomais è stato coperto come vedete da questa struttura serricola e qui semplicemente si fa un rivoltamento periodico della biomassa per assicurare la reazione, quindi non viene insufflazione di aria, però questo è un cumulo così detto dinamico, non più statico. Nell'impianto di compostaggio carbon farm, che vedete qui in fotografia, è l'impianto più grosso che è stato realizzato grazie a questo progetto LIFE, di fatto come vedete sono delle strutture serricole con queste andane, questi cumuli che praticamente rendono periodicamente insufflati di aria ma anche rivoltati, quindi è un sistema misto, qui vedete prima della gettata di cemento queste tubazioni dove praticamente con le tubazioni principali che decorrono l'uvo, la struttura serricola, e questi verticali dove a fare questo quale viene iniettata diciamo all'aria, e poi questo chiaramente prima di mettere giù la piattaforma di cemento. Questi sono i rivoltatori, sono portati dalle prese di potenza della trattrice, quindi la trattrice procede lateralmente alle andane ed è il classico processo anche nei quelli industriali dove abbiamo queste lunghissime andane, praticamente si utilizza questo sistema dove non c'è magari l'impostazione ma c'è semplicemente il rivoltamento. Lì invece li vedete per setacciare praticamente i cumuli e questo ci permette di avere un compost più sottile dove è possibile anche recuperare il sovvallo, cioè il materiale ligno cellulosico, il cipato di legno, che è fondamentale da aggiungere alla biomassa vegetale, perché è importante che ci sia, si dia una struttura al nostro cumulo perché l'area deve passare. Oppure se uno non vuole fare questi impianti perché non ha quella produzione di biomassa da compostare e non vuole lavorare molto, basta che realizza all'inizio un cumulo fatto a strati, diciamo a lasagna, lo chiama il professor Celano, dove praticamente affermiamo del materiale ligno cellulosico dal materiale di natura strutturante, di natura nutrizionale, in questo caso sono delle scarole, così alternate e si lascia lì fermo. C'è una struttura fissa dove noi ci dobbiamo preoccupare solo di bagnare periodicamente il cumulo perché durante il processo di compostaggio si ha un innalzamento della temperatura anche a 50-60 gradi e di fatto qui avviene un compostaggio più lento perché l'ossigenazione avviene mediante diffusione di ossigeno, mediante la ventilazione naturale e alla fine però anche se i tempi di compostaggio all'incirca raddossano perché nei sistemi che vi ho fatto vedere prima andiamo avanti all'incirca 3 mesi, in questo caso andiamo avanti per 6-7 mesi, però il compost è veramente di ottima qualità per quanto riguarda le proprietà generali. E qui vedete sono i vari impianti di compostaggio che sono stati realizzati nel corso nel tempo in regione Campania, qui vedete come nel processo di compostaggio si vede già ai primissimi giorni in un innalzamento della temperatura che è un processo naturale dovuto ai microrganismi estremamente interessante per poter operare un'igienizzazione della biomassa e soprattutto per far sì che i patogeni presenti nei residui vegetali a fine ciclo vengono praticamente eliminati, così come anche i semi delle piante infestate. Questo già controllare andando nel processo come temperatura è fondamentale per capire la qualità di un compost che ne deriva. Ma questi compost sono estremamente interessanti anche per le proprietà di soppressività che noi studiamo in modo particolare. In questi vari compost che abbiamo realizzati nell'ambito, sono stati realizzati nell'ambito del progetto Life Carbon Farm, vedete da L1 a L7a tutta una serie di compost diversi, dei quali abbiamo valutato la capacità di controllare determinati patogeni delle piante, specificatamente Ritoptonia Solana e Sperotinia Minor, che sono punti che attaccano la radice e il colletto. Come si può vedere in alcuni casi, sull'asse verticale delle ordinate via l'incidenza di piante malate, un test in cui noi praticamente delle piante test, in questo caso l'epidium crescione praticamente, viene aggiunta sul vostrato del compost e viene aggiunto anche il patogeno, Sperotinia o Ritoptonia. E si vede rispetto a un controllo queste piante se riescono a crescere oppure vengono distrutte praticamente dalla Sperotinia o dalla Ritoptonia. Ebbene dove c'è l'asterisco L2, vedete, oppure L4, si vede per esempio nel caso della Sperotinia questi due compost sono stati capaci di controllare completamente lo sviluppo di Sperotinia, per cui abbiamo avuto un'incidenza di piante malate pari praticamente allo 0%, a contrario invece per la Ritoptonia, un altro caso estremo, questi altri compost, CVL2A e L3A, dove praticamente tutte le grandi sono state distrutte dalla Ritoptonia. Questo per dirvi, quindi la diversa altezza di questi histogrammi, sta a indicare come compost diversi, diversi perché cosa? Per le matrici di origine che le hanno poi andate a costituire, di fatto hanno la capacità di controllare le malattie dei cosiddetti funghi solbornici, originari del suolo, differente. I meccanismi di biocontrollo sono numerosi, qui non mi soffermo per motivi di tempo, qui vi faccio vedere il fenomeno dell'antibiosi che è possibile rilevare in piattra, dove lungo i bordi delle piatte abbiamo messo dei bacillus, che si differenziano molto durante il processo di compostaggio, perché i bacillus sono termofili e sono dei batteri sporigini, che come ho fatto vedere prima, sono estremamente interessanti da un punto di vista del controllo biologico. Di fatto l'alternata, come vedete, al centro c'è una piatta di controllo, viene a diversa capacità di produrre sostanze ad azione antifungina da parte dei diversi ceti. E qui andando in vivo si vede chiaramente come noi dobbiamo utilizzare dei compost vivi, cioè o meglio dei compost non sterilizzati, perché se noi sterilizziamo questi compost, di fatto vi è un calo brusco della capacità di soffressività, come si può vedere. A sinistra abbiamo un test con un compost soffressivo sterilizzato in autoclave, e a destra con un compost non sterilizzato. Si vede la differenza nel numero di piante che sono venute fuori, nonostante la presenza di sclerotina nel substrato. Sono proprio i microrganismi principali artifici, sebbene ci sono dei compost particolari, come quelli in cui mettiamo dentro il residuo del caffè, della posa, non so come si chiama, di fatto quelli essendo già ricchi di sostanze aromatiche, già diverse coerazioni chimiche hanno un effetto di soffressività, perché anche sterilizzando questi compost, di fatto abbiamo avuto un effetto di biocontrollo assolutamente interessante. Questi sono i principali generi di batteri e funghi che sono presenti nei compost, che sono noti agenti di biocontrollo, sono quelli di cui vi ha parlato anche Fulghe, che generalmente troviamo nei nostri formulati commerciali. Questi compost noi li studiamo, da un punto di vista microbiologico, isoliamo i microrganismi, io lavoro molto sul bacillus, come potete vedere in questo schema di valutazione di due ceppi, B1 e B2, si vede la capacità di biocontrollo, nel caso specifico sclerotina sulla tuba, e risottone a solani sul cavolo. Quindi questa dimostrazione di come questi compost sono sedi di questi microrganismi, agenti di biocontrollo, ma sono anche sedi di microrganismi promotori della crescita della pianta. Per esempio, vedete sulla sinistra queste piante di pomodoro, come sono più cresciute rispetto a quelle di destra, ma perché semplicemente non abbiamo, non l'abbiamo concimato, ma ci abbiamo messo un batterio promotore della crescita. Vedete come sono cresciute, tra i principali meccanismi per proprio la produzione diretta o indiretta di sostanze ad azioni fitormolari simulare la crescita. Oppure addirittura abbiamo, spesso ci ritroviamo di fronte a dei microrganismi, dei batteri, nel caso specifico, stavano sempre bacillus subtilis, che ha sia un'azione di biocontrollo che un'azione di promozione della crescita. Per esempio, sulla sinistra vedete come non solo controlla bene la risottonia, ma stimola anche la maggiore produzione di tuberi, e questo è dovuto alla maggiore produzione di sostanze del tipo citofinine. L'aggiunta di compost addirittura determina un generale incremento della fertilità biologica del suolo, come potete vedere dagli histogrammi neri, dove abbiamo aggiunto compost a 50, 80 e 110 giorni, via una serie di incrementi di attività come la respirazione, altre attività biofimiche e entimatiche, che sono indici di sviluppo di microrganismi del suolo. La metagenomica è sicuramente uno strumento molto potente, noi l'abbiamo applicata sia su compost che su tedi compost, e possiamo dire che quando facciamo un analisi di questo tipo, possiamo meglio capire qual è la composizione in microrganismi ed eventualmente associare a delle proprietà di questi compost. Per esempio, analizzando, confrontando un compost molto soppressivo ed un compost poco soppressivo, abbiamo visto che determinati genere, specie fungine, batteriche, scusate, erano particolarmente maggiormente presenti nel compost soppressivo rispetto ai compost non soppressivi. E tra l'altro individuando anche delle specie che magari non sono note come agenti di biocontrollo, però ci fanno accendere nella nostra testa una lampadina per dire, beh, forse potremmo effettivamente vedere singolarmente se questi ceppi hanno questa capacità di biocontrollo. Il problema del compostaggio è che non sempre abbiamo diciamo grande disponibilità di biomassa e quindi un sistema può essere quello per migliorare la fertilità di un suolo di fare compostaggio di superficie. In pratica non consiste altro che coprire il suolo con del materiale che può essere le stesse piante da biomassa che producono e crescono rapidamente su questo suolo che fortunamente trinciate possono rimanere sul suolo oppure leggermente interrate e quindi il compostaggio avviene praticamente su quel sito. Ovviamente non mi dilungo per motivi di tempo però questo può essere un sistema che sicuramente ha il vantaggio di migliorare la fertilità di un suolo facendo un compost sul sito senza avere bisogno di tutte quelle strutture che vi ho fatto vedere. Questo poi sono scelte ovviamente che si vengono dall'organizzazione aziendale. Un derivato del compost è il tè di compost che è un estratto acquoso ricco di microorganismi che ci permette di poter utilizzare il compost diciamo così in forma liquida con quale noi possiamo fare sia dei trattamenti fogliari cosa che con il compost ovviamente non è possibile oppure dei trattamenti anche al terreno quindi al suolo, ovvero alle radici. Cosa fa il tè di compost? Incrementa la crescita radicale e la tenda in generale incrementa la concentrazione di clorofilla incrementa la fioritura e la legagione incrementa in modo significativo la produzione ma protegge anche le piante da malattie di origine, fungine batterica e alcuni lavori riportano anche nei riguardi dei nematodi. È facile farlo si chiama tè di compost perché sapete come si fa il tè si deve mettere il compost in una sacca temi permeabile che può essere fatta dire tantefidico, tessuto o non tessuto si immagina in un bidone contenente un liquido estraente che è generalmente acqua e si fa un'insufflazione periodica di aria la cosa fondamentale è mantenere la temperatura intorno a 28 gradi che è la temperatura ottimale per la crescita dei microrganismi. Qui è un sistema che è stato fatto grosso nel nostro questi contenitori radici quintali che si utilizzano, sono presenti in tutte le aziende in questo caso la circolazione è stata fatta ricircolando dell'acqua con una pompa quindi non con l'insufflazione di aria all'interno questi sono sistemi che sono disponibili in commercio ovviamente le caratteristiche di un tè di compost variano da tanti fattori principalmente noi abbiamo studiato il tipo di compost cioè come il tipo di compost influenza la qualità del tè di compost rispetto al processo abbiamo ottimizzato con queste condizioni in termini di rapporto compost-acqua di grado di areazione e temperatura eccetera eccetera però ovviamente sono variabili che uno può movimentalmente modificare a secondo del tipo di compost qui si vede come i tè di compost influenzano positivamente la biostimolazione la crescita di piante di lepidium in questo caso oppure vedete qua su spinacio a sinistra anche molto diluito incrementa naturalmente lo sviluppo delle plante rispetto al controllo qui a centro lo stesso vale per l'avvieto la vedete sulla sinistra o ancora per la valeriana sempre sulla sinistra il tè di compost diluito un accento questo è un esperimento che ha fatto una società napoletana di biotecologia di un tè di compost che abbiamo fornito e come vedete nel primo vasetto questa è una pianta di arabidoxi come ha stimolato la crescita della pianta e la fioritura di gran lunga superiore rispetto a un formulato commerciale a base di amminoacidi che vedete nel secondo vasetto gli altri due sono dei vasetti di controllo ho detto che il tè di compost ha una capacità di controllare anche le malattie se si fanno dei trattamenti fogliari sul pomodoro controlla bene la ternaria controlla bene la pirinochetta licopestici vedete anche la capacità di sviluppare di stimolare la crescita radicale lo stesso nei riguardi di poterifici nera con diversi tè di compost dove è stato utilizzato anche l'articello come liquido estraente oppure nei riguardi del controllo di la risottone a solane su cavolo rapa sclerotini amino su lattuga sclerotini su peperone questi sono tutti i test che noi abbiamo fatto ovviamente in ambienti collaboratori però la cosa interessante è che quando andiamo in pieno campo i risultati sono davvero straordinari qui vedete sottosera nella piana del sele la somministrazione in fertilizzazione di tè di compost è stata in grado di controllare perfettamente la sclerotina di generare anche dei cerchi più grandi più verdi rispetto a quello che vi dicevo prima qua con diversità con risultati differenti oppure su peperone in due anni un incremento medio del 22% di produzione perché se vi ricordate all'inizio vi ho detto che stimola la fioritura e stimola l'allegaggione delle piante ancora la produzione in calo rapa sempre per i trattamenti fogliari vedete l'organo edul è decisamente più grosso un 32% in più o rupola 39% il trattamento con il tè col tè ha stimolato fortemente lo sviluppo delle piante su pomodoro più 46% con 4 diversità di compost vedete rispetto ad F che il nostro controllo chimico ha prodotto di più non solo ma non lì abbiamo utilizzato solo 2 antiteronosporici non abbiamo fatto altri trattamenti con bugicida di differenza del trattamento F andando sempre in pieno quindi tutte le prove di pieno campo come anche questa nel basso latto dove dei progetti in corso su rucola un incremento non solo di produzione il sistema reale questo che io ho solo dato ho fatto fare tutto a loro io non ho fatto niente l'hanno fatto tutto a loro hanno visto il risultato un incremento di produzione una riduzione di nitrate al primo taglio ma soprattutto quello che è stato osservato la cosa interessante è che loro hanno sostituito un formato commerciale a base di microorganismi con il compost quindi di fatto questo è un ottimo risultato su ravanella ancora più interessante sempre nel basso latto zona di sabato un incremento dal 32 al 40 tonnellate ad ettaro con miglioramento anche della qualità in termini di residuo ottico e di residuo secco questo è in un ciclo stagionale a tumbo vermino dove il ravanello cresce più lentamente con un controllo interessante anche della ridottona li fanno ravanello da 20 anni quindi fanno chiaramente la solarizzazione perché se no sarebbe impossibile però di fatto hanno visto anche un miglioramento fitosanitario diciamo ormai alla conclusione la cosa interessante è vedere anche da un punto di vista di quello che succede nella pianta quando si fanno questi trattamenti con il tedi compost qui è un esperimento fatto un po' di anni fa in idroponica dove questi trattamenti con il tedi compost a livello radicale nelle prime 24 ore hanno determinato la produzione l'espressione di 500 geni differenzialmente espressi e questi geni si è visti da altri bioformati che sono implicati nei sistemi di crescimento cellulare di induzione di resistenza nelle piante ovviamente bisogna stare attenti alla qualità microbiologica quindi vedere se si assente scherigavoli e coliformi cose che normalmente non accade se utilizziamo dei compost di qualità e facciamo per bene il nostro processo di produzione di tè l'analisi metagenomica è stata utile non solo per i compost ma anche per i tè di compost dove di fatto abbiamo potuto anche vedere vedendo proprio tutti i microrganismi presenti che l'analisi metagenomica ci permette questo di vedere i diversi livelli di biodiversità che sono stati raggiunti con questi diversi tè questi sono due indici come si vede per esempio il CTP2 è risultato nettamente superiore per il livello di biodiversità microbica e quindi cerchiamo anche di associare rispetto alla funzione biologica di questi tè i principali microrganismi presenti sono bacillus pseudomonas che sono noti agenti di biocontrollo però come dicevo ne sono diversi altri che potrebbero essere interessanti probabilmente implicati nei meccanismi di soppressività quindi questi andranno chiaramente approfonditi questo per dirvi quanto può essere importante la diversa diciamo come compost diversi possono dare dei tè di compost differenti per cui noi possiamo disegnare avendo disponibilità di determinati biomatte un compost inizialmente partendo dalle biomasse in varia percentuale per avere delle tè che hanno determinate caratteristiche in questo caso si vede sia con i compost areati che con compost non areato come utilizzando un compost che in origine è stato nel quale era presente nella biomassa iniziale all'inizio compostaggio malli e fogli e residui di frutti di noce per il 60% ha determinato la produzione di tè di compost che non è in grado di biostimolare le nostre piante test di rucola anche alla diluzione di una a 10 mila in alcuni casi quindi per dire diluzione estremamente scritte qui giusto in conclusione c'è la possibilità una volta che abbiamo rispetto alla moltiplicazione dei microrganizi secucana che ho preparato tra l'altro di origine messicana loro in origine utilizzano praticamente come materiale ricco di microrganizi l'humus del bosco che viene opportunamente diciamo che vengono opportunamente moltiplicati aggiungendo zucchero e crusca in determinate condizioni se ne favorisce lo sviluppo hanno un'azione di biostimolazione interessante non di soppressività a dire il vero e anche qua si vede chiaramente attraverso l'analisi metagenomica di questi decucana o che si è anche accumulato di microrganismi come di fatto passando da un suolo attraverso la moltiplicazione dei microrganismi del suolo con questo sistema del decucana di fatto noi andiamo solamente a sviluppare determinati gruppi di microrganismi e non tutti chiaramente tant'è vero se noi confrontiamo la biodiversità microbica dei suoli rispetto alla biodiversità microbica del decucana da cui sono derivati di fatto si vede un abbastamento della biodiversità in alternativa possiamo utilizzare semplicemente del compost per amplificare i microrganismi e quindi questo per essere un modo per aumentare la disponibilità di questi materiali chi vuole mi può scrivere può ricevere del materiale questo è molto interessante il PDF dove è stato prodotto durante il progetto Biocompost dove è stato creato apposta per facilitare gli agricoltori nel realizzare compost e sedi compost chi vuole approfondire può acquistare questo libro dove sono spiegati un po' tutti i microrganismi utili in agricoltura che è estremamente interessante un'ultima attività che sto svolgendo in questi tempi ultimissimi tempi è proprio quella della realizzazione di biofermentate e bocaci partendo dai rifiuti vegetali delle produzioni di quarta gamma che sembrano estremamente interessanti per la produzione di biofungicidi e ho finito ho preso un po' di più scusatemi sì poi io la posso mandare però ve la giriamo lasciamo le domande alla fine sì chiaramente gli interatori sono disponibili per la produzione questa va bene quella e poi uguale questa non c'è la quantità poi c'è e questa va bene grazie Massimo per la tenuta dei tempi è stata una leggera sforratura ma è bene così visto che era comunque interessante quello che hai detto per avere anche puntualizzato dal mio punto di vista l'importanza della qualità del compost perché quello di controllare anche la contaminazione da enterobatteri comunque è una cosa molto molto importante adesso chiamo a relazionare il chilemonetta che ci parlerà della comunità dell'uso dei produttori agrobiologici in Basilicano c'è una presentazione vai abbraccio permettetemi di ringraziare l'Asia per l'ospitalità in modo particolare Emanuele Scaccione per l'impegno che ha propuso nella organizzazione di questo incontro per i nuovi arrivati nel mondo del bio ci presentiamo siamo il consorzio che ha fatto la storia del bio in questa regione e pensiamo di continuare a farlo anche organizzando eventi come questo ovviamente in collaborazione con quanti condividono i nostri stessi ideali il comprobio è un consorzio di produttori nato da un'azione lungimirante dell'Asia che ringraziamo nell'ormai lontano 2005 ha fatto innumerevoli esperienze condivise promuovendo la discussione del metodo biologico senza con timore di far crescere nuovi competitor ci evolviamo seguendo le migliori tecniche per aumentare sempre più la sostenibilità ambientale la biodiversità anche micropica abbiamo un libro paga quattro lavoratori stagionali un impiegato sottoscritto uno part time che ci accingiamo ad assumere e tre tecnici che collaborano costantemente con noi non facciamo utili non è la nostra mission ma riusciamo a chiudere quasi sempre i conti in pareggio e se gli sono utili li distribuiamo tra i soci in primis e ai produttori biologici lucani in secondis permettetemi il termine non in termini economici ovviamente ma in termini di servizi e questo è uno di quelli e se ci sono perdite come è capitato in un paio di occasioni da 18 anni a questa parte chiamiamo i soci a ripianare e i soci lo fanno per chiudere sul fatto che oggi è prodotto da tutti e proprio per questo noi come consorzio non potevamo pensare di continuare a produrre quando una innovazione è di tutti non è più un'innovazione quindi che facciamo ci tiriamo indietro dal mondo cerealicolo no stiamo lavorando a nuovi cereali minori a dirla tutta africani andiamo verso la desertificazione e che aspettiamo possa darci i medesimi risultati che ci ha dato in passato il fatto per i dettagli in sale il nostro tecnico mi chiede Fagliene che si occupa di questo il comprobio nasce per innovare per cui ora che tutti passano al bio il comprobio passa a rete 1 pensiamo che sia arrivato il tempo di alzare l'asticella su questo biologico che non è un semplice residuo zero un prodotto è bio non solo se è privo di residui ma se persegue obiettivi ambientali e sociali riteniamo che ci sia un mercato disponibile a riconoscere questi valori per quanto ci riguarda siamo già partiti con una rete humus di neo agricoltori biologici lucani disposti ad alzare l'asticella sul miele biologico se interessati vi è Carlo Marino che è a disposizione per chiarimento alzare l'asticella sul bio significa sperimentare tecniche innovative che attenzionano l'ambiente non ci rivolgiamo a quella scienza che guarda gli agricoltori biologici come dei battucchieri e degli stregoni ma a quella scienza che c'è e si avvicina all'imprenditore biologico per quello che è un innovatore e uno sperimentatore che quasi mai ci asserca ma qualche volta ci prende ecco perché abbiamo bisogno di una scienza con la S maiuscola che abbia voglia di volare alto e di avvicinarsi a noi per quello che siamo perché il paradigma del futuro non sarà il risultato finale quanta produzione ricavo da un ettaro di terreno ma quanto meno impatto ambientale ho ottenuto producendo tot quintali di prodotti sufficienti a sfamare un popolo planetario disposto però a non fare sprechi e non lo diciamo noi lo dice la PAO lo dice la comunità europea e lo dice il Po in secca ci evolviamo e pensiamo di aggiungere qualità all'agricoltura biologica aderendo ai valori di rete humus ecco perché ci farebbe piacere che anche l'Alsia e l'agrobios riprendano come il CREA tematiche a noi cari come le autoproduzioni e che diano supporto agli imprenditori con attività di ricerca condivisa per la individuazione di soluzioni che riducano gli input extra ambientali e che ci assistano per autoprodurre in sicurezza partendo proprio dalle attività agricole o connesse a quelle agricole non una nuova autarchia ma una nuova opportunità per migliorare l'efficienza ambientale applicando localmente i principi dell'economia agricolare aspettiamo aspettiamo che i nostri endi preposti ricordiamolo allo sviluppo socio-economico dell'agricoltura lucana continuino a dare servizi negli interessi degli agricoltori e cittadini e consumatori a volte si hanno anche altre percezioni necessitiamo di supporto allo sviluppo di linee guida per le autoproduzioni per l'uso ad esempio di nuove piante di nuovi stratti macerati fermentati da integrare negli allegati della normativa comunitaria e nazionale abbiamo bisogno di disciplinare buone pratiche semplici procedure per produrre in sicurezza mezzi tecnici bimbi né più né meno quello che fanno istituti di ricerca in altre nazioni ITAB FIBAL Total Institute all'atere di questo permettetemi un ringraziamento a nome di gran parte dei presenti in sala al dottor Mele risorsa dell'Alsia che da sempre ci supporta nelle innovazioni a volte osteggiato come d'altronde lo è sempre stato in passato il biologico ma oggi i tempi si stanno evolvendo il consorzio è oggi inserito e direi apprezzato all'interno del comitato di indirizzo di tecnologie agrarie dell'Università di Basilicata solo qualche anno fa era impensabile che studenti universitari si confrontassero con aziende biodinamiche della regione ed oggi lo si fa vediamo ora come mantenere la fertilità organica nei terreni vi convido che abbiamo sentito parlare per la prima volta di questi argomenti proprio dai biodinamici quando abbiamo conosciuto Odonlischi portato qui all'Alsia che ringraziamo grazie ai preziosi contatti che Pino riesce a creare come anche la giornata di oggi che speriamo produca frutti facciamo il tesoro di questa esperienza grazie ringraziamo Michele ringraziamo Michele Monetta per averci chiarito anche un po' la strategia del confopio dove va vuole andare il confopio e anche cosa chiede diciamo all'istituzione che inclusa l'Alsia mi sarebbe anche per questi stimoli pensiamo comunque come istituzione di farne tesoro nei limiti delle nostre possibilità adesso chiamo il collega qui Emanuele Scalcione a dire che cosa fa appunto poi risponde anche alle tesoro di tutta immagine cosa fa l'agenzia in questo settore e come anche l'agenzia si può muoversi per dare più supporto non solo al biologico ma in questo caso soprattutto al settore biologico che tanto mi interessa noi Emanuele grazie mi scuso perché mi hai ringraziato prima però io ti ho distrubato perché dovevo ammettere delle persone il mio cellulare si sta scaricato quindi tra l'altro c'è anche il direttore in vista d'attesa quindi che poi chiuderà il lavoro quindi ti informo di questa cosa io vi presento i bandi a Sportello e Lazio quindi io sono responsabile di un'attività anche perché questa è una relazione che faccio in collaborazione con il dottor Caponero che oggi non c'è per altri motivi per impegno e che naturalmente siccome i nostri bandi chiaramente come dire si intersecano molto bene quindi con le attività vostre magari la mia quindi il bando che gestisco tuttora che l'anno scorso che abbiamo attivato quello sull'assistenza all'irrigazione chiaramente si intersecano e quindi ha chiaramente forte connessione con voi poi chiaramente l'attività di Caponero quindi sull'assistenza di Capito Sanitario ancora di più modere allora chiaramente i bandi sono stati pubblicati e ovviamente sono dei bandi aperti e ovviamente se ne fa richiesta quindi chi vuole ci sono dei moduli tra l'altro qui ce ne sono due subvertuti sulla scrivania o comunque si possono scaricare anche online sono servizi specialistici e ovviamente gratuiti quindi non chiediamo alcun contributo a questi quindi questo è praticamente il suo servizio quindi dove poter avere queste informazioni online i bandi quelli che abbiamo attivato che sono praticamente quattro che sono quello che o che vi dicevo io quello il riprende assistenza all'irrivenzione c'è Pitoconsult che è quello della collega giapponiera di un'assistente nel settore fitosanitario poi c'è il bando quello della che praticamente vede quella della caratterizzazione delle culture quindi che adesso vediamo un po' adesso tornare un attimo indietro che questo vabbè comunque scusatemi ma io con questo pc non mi sto trovando molto bene va bene comunque poi c'è quello suprime che praticamente è stato fatto in questa estate quest'anno potrebbe essere richinanziato che ha previsto l'inclusione e l'addestramento di lavoratori extracomunitari quello altro della caratterizzazione poi anche genetica di alcune specie che chiaramente si utilizzano per la professionalità delle infrastrutture della metafondi agrofiosi quindi che oggi ci ospita come vi dicevo questa è della consulenza tecnico-scientifica è quella della caratterizzazione genetica quindi che è un'attività quindi si procede a verificare se c'è stato online e noi abbiamo messo logicamente la cittura storica quindi gli fanno vedere che l'originale partice è la cittura storica che si fa identifica e è un bambino questo è assolutamente nuovo non è stato ancora pubblicato questo io mi sono permesso non è che non è che ci si stacchie non è scusa non è scusa mi diventa un bambino quello che faccio una faccola porti di informazione si però questa si con Francesca però questa qua è firmata non è firmata né da Francesca né da questo è un bando quello della fertilizzazione che chiaramente partirà a breve aspettiamo chiaramente l'approvazione del bilancio quindi per vedere anche le risorse che saranno messe ma come vedete è molto legato anche all'attività che oggi vengono presenti per fare i piani di consumazione e poi anche delle analisi fisico-chimiche del suono quindi è chiaro che ovviamente ci saranno dei criteri di selezione perché ci aspettiamo una grossa adesione però per quello che si fa soprattutto magari il direttore si impegnerà quindi sarà anche più chiaro di me sulle risorse che potranno essere messe a disposizione e quindi poi dobbiamo mettere per forza le persone di siamo obbligati a fare Quindi il fitoconsult che molti di voi conosceranno e quindi quello sulla consulenza fitosanitaria, come vi dicevo il collega Caponeo che se ne occupa in prima persona, ma chiaramente è un gruppo di persone che collaborano con lui, quindi sulla difesa fitosanitaria e quindi dove vengono ad essere sopra luoghi, fatti delle analisi del punto di crisi aziendale, quindi viene fornita la consulenza fitosanitaria, c'è una checklist che viene compilata e chiaramente discussa con l'agricoltore e quindi anche soprattutto ha lo scopo di informare quelle che sono le norme, quindi noi non siamo degli iscritti, noi siamo dei consulenti dove vi diciamo, guardate, la legge dice questo, se vi mettete a no è buon verbo e poi più di tanto noi non possiamo fare, poi chiaramente i dati sono comunque riservati, quindi non vengono trasmessi da nessuno, quindi pubbiamo ogni dubbio nel caso in cui qualcuno pensi che potremmo trasferire le informazioni. Questo chiaramente è il fitoconsult e poi il tono dice il ripreso, quello è l'assistenza alle irrigazioni, questo chiaramente è un'attività che viene fatta, perché vi è un servizio anche l'enterologico che chiaramente è alla base di tutto questo, come anche alla base del servizio di difesa fitosanitaria, perché abbiamo la modellistica che si alimenta di dati. di fatto di morte, ho l'atto uccinato, dove sia l'attività. E' chiaramente che si possono essere venuti lungo, molto, perché il contesto non lo richiede, insomma, e chiaramente fanno un campo di bilancio idrico sui criteri agronomici, quindi sui criteri chiaramente ormai consolidati da tempo, con delle pagine di risposta, quindi con delle foto, il bilancio idrico, e quindi qual è l'informazione che viene data, la data dell'evitazione e la quantità di acqua da sollevare. Si può anche implementare con la visualizzazione del campo, quindi con il Maffa, e quindi praticamente vedo un'altra cosa, come vi dicevo, quindi come vi dicevo, io praticamente la fermo qui, anche perché apriamo il dibattito a una serie di chiarimenti su quello che è stato l'argomento principale della giornata, ma ovviamente anche su questi bambini, che nel caso in cui voi siate interessati, oltre che probabilmente molti di voi saranno già iscritti, e quindi siamo a discorso insieme. Sì, questo è un servizio che uno si iscrive, chiaramente c'è il modo, quindi è bene, ma questo è un servizio che è un servizio che uno si iscrive, chiaramente c'è il modo, quindi è bene, ma questo è un è gratuito questo servizio, quindi uno si iscrive perché così noi abbiamo dei riferimenti sulle persone e chi ha fatto questa attività, ma è soltanto a titolo di informativo per essere poi successivamente, eventualmente contattati, però è assolutamente... In un senso al corso, ma anche l'accessibilità... Accessibilità... Però, allora, se intendiamo accessibilità ai dati agometeorologici, anche quella è libera, basta previ a registrazione dal portale, si va quindi portale Ausia, dai servizi e chizini. Noi, infatti, con la nuova amministrazione, praticamente la politica è quella di far registrare gli utenti in modo tale da avere le informazioni e quindi poi anche da un modo di contattati e fare anche degli studi specifici comunque. Questo è stato un punto fermo dell'attuale amministrazione nell'attuale gestione, quindi che praticamente infatti in operato sono stati pubblicati dei banchi che sono aperti, quindi non c'è una data di scadenza, quindi tutti possono registrarsi e così poi possono essere contattati eventualmente per collaborare. Grazie. Beh, ci sono state per una o due domande anche ai relatori, curiosità, tutto chiaro. Allora, diciamo, ci approfittiamo alla fine settimana. Chiederemo la disponibilità delle presentazioni e magari ai relatori che poi credono loro di pulire, fare, darci magari già qualcosina. Comunque questa giornata è stata registrata, quindi tutto il materiale sarà disponibile anche via video da poter rivivere, diciamo, in altri momenti, sia a chi ha partecipato sia a chi non ha partecipato. Quindi ci sarà ampia... Poi immagino potete contattare comunque anche o tramite noi o direttamente come ha fatto anche il dottor Zaccardo per cose particolari. Va bene? che direi, se non ci sono domande, passerei se è in linea la parola al direttore, al dottor Crescenzi. Direttore, ci senti? Non lo vedo. Come si chiama? Triple X, diciamo. Non vedo un Crescenzi in linea, diciamo, non vedo almeno tra i nomi. Trovo a sentirlo, altrimenti ci avviamo alle conclusioni. C'è ancora una spazio per la lavanda, assolutamente. No, magari faccio una domanda, visto che stiamo ascoltando. Proprio per l'aspetto normativo e legittimativo, no? Cioè abbiamo affrontato argomenti tecnici, abbiamo visto quante potenzialità ci stanno, ma giustamente è Caniello Crescenzi. Caniello? Anie, ciao, mi senti? Ah, ho capito. Vabbè, allora ti saluto io per te, in questa difficoltà, se vuoi. Ma come ti chiami tu? Come sei connesso? Come sei connesso? Come sei connesso? Sotto quale... Forse iPhone. iPhone. Ti sento? Francesco? Ah, adesso ti sentiamo. Perfetto. Ok. Vai. Eccomi. Volevo... Sarò molto rapido, anche perché ho avuto modo di seguire solo l'ultima parte del seminario, che ho trovato estremamente interessante, almeno per quella parte che ho potuto seguire. Cosa dire? Ringrazio tutti i relatori, l'amico Zaccardelli e tutti gli altri amici per essere intervenuti a questo appuntamento. e, in particolar modo, volevo ringraziare anche tutte le persone che hanno seguito sia in presenza che in videoconferenza, che vedo che sono stati molto numerosi. Così, come ha detto anche il dottor Emanuele Scalcione, noi replichiamo sempre sullo stesso argomento nelle prossime settimane questo tipo di temi, questo tipo di argomenti, con un ulteriore contributo che cerchiamo di dare al biologico, in modo particolare, considerato anche che, come tutti ben sanno, la settimana scorsa, cioè non più di due settimane fa, sono state approvate le norme a livello nazionale per quanto riguarda i distretti biologici, su cui la regione Basilicata nei prossimi giorni porterà in discussione una legge regionale per l'istituzione e il riconoscimento dei distretti biologici, ovviamente sulla base che è quella che è la normativa nazionale. Di distretti biologici che prendono in considerazione, come tutti quanti voi sapete, non più la coltivazione, non più il campo, non più l'azienda, ma un vero e proprio areale di portata molto più ampia, ovviamente, per caratteristiche sia abbiendali e sia di tipo di coltivazione che vanno incontro a quello che è l'esigenza dell'attuale utente consumatore dei prodotti biologici. Non guardiamo più alla singola coltivazione, al singolo prodotto, ma guardiamo alla sostenibilità abbiendale, guardiamo a tutto un complesso che giri intorno alla cultura stessa, per cui si allarga enormemente l'intervento a favore della salvaguardia dell'ambiente, della sostenibilità delle coltivazioni e dell'agricoltura, sempre con l'obiettivo di migliorare le qualità della vita dell'uomo. Questo è particolarmente importante e vedrà fortemente coinvolte anche l'Astia in questo processo di una vera e propria evoluzione del biologico in Italia e in Europa, che come tutti quanti voi sapete l'Italia si attesta tra le prime nazioni a livello europeo per produzione e per superficie investite in biologico e la regione Basilicata si attesta molto di sopra della media nazionale. Sfioriamo, andiamo oltre il 25% per quanto riguarda la produzione e le produzioni biologiche in termini di superficie coltivata biologico. L'obiettivo dell'Unione Europea in questa prossima programmazione è proprio arrivare al 25%. Diciamo che ci sono tutti i presupposti per fare bene a livello territoriale, per mantenere questa leadership che teniamo per quanto riguarda le produzioni e le superfici investite in biologico. È ovvio che è necessario un forte sforzo da parte di tutte le istituzioni, in particolar modo di quelle che la ricerca, la sperimentazione, il trasferimento dell'innovazione al settore biologico, perché ancora oggi se alcune culture non hanno ancora delle percentuali molto alte di biologiche, perché molto probabilmente una delle cause è quella che non si dispongono ancora di quei protocolli, di quei prodotti che ci consentono di coltivare in modo redditizio le coltivazioni biologiche. Un altro aspetto su cui mi preme sottolineare queste mie conclusioni, che i prodotti biologici che producono ovviamente le aziende biologiche nei prossimi mesi, le aziende biologiche presenti nei distretti biologici, devono essere maggiormente valorizzate da un punto di vista economico, perché non si può pensare che la qualità del prodotto non venga remunerata in modo opportuno. Questo è un salto di qualità che va fatto da parte delle istituzioni, tutte, perché la remunerazione di chi coltiva in biologiche, che ha dei costi maggiori, è sicuramente delle produzioni da volte inferiori rispetto al convenzionale o all'integrale, possa avere quella giusta remunerazione che deve avere un impegno, un'impresa agricola. Io con questo vi volevo salutare, volevo ringraziare ancora tutti i relatori che sono intervenuti in questa riunione, volevo ringraziare Emanuele Scalcione che in tempi strettissimi ha messo su questo incontro di studio e ovviamente un saluto caro ma anche al dirigente Cellini che ha guidato questa giornata in modo eccellente come sempre. Grazie a tutti e buon fine settimana. Grazie a tutti.